Buon dì, ritorno ai nostri caffè, ai nostri simpatici, irriverenti, indisponenti caffè. Ma prima una brevissima analisi del voto. La prima analisi, il voto molto spesso viene drogato da fattori esterni. I social, i media amplificano alcune situazioni e in qualche modo drogano le elezioni. Fate una breve riflessione. Nel 2018 c'era l'effetto 5 Stelle che ha travolto tutto e tutti. Nel 2019 il successo di Salvini. Nel 2020 il fenomeno Covid-De Luca che ha drogato questa competizione elettorale. Fenomeni che poi finiscono immediatamente dopo. Perché come è finito il fenomeno 5 Stelle e il fenomeno Salvini, attenti, finirà anche il fenomeno De Luca. De Luca che sarà preso dalla sindrome di Napoleone. Lui, i suoi parenti, i suoi figli, i suoi collaboratori. De Luca che nella guerra enorme nei confronti del PD sicuramente ne pagherà le conseguenze. E quindi anche il fenomeno De Luca è destinato fra poco a scomparire. Una valutazione sul successo di De Luca e sull'assenteismo del centrodestra. Pensate che il centrodestra che normalmente è al 40-45% in tutti i suoi ondaggi, in queste elezioni ha preso solo l'8,5% degli aventi diritto. Perché ha preso il 17% tutti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc. E' chiaro che con questo risultato il voto libero, il voto d'opinione, il voto di chi ragiona non c'è stato. C'è stato solo il voto di chi nelle piccole città, nei piccoli quartieri, prende intere famiglie, le mette nelle macchine e li porta a votare. Un'ultima considerazione. Basta con le imposizioni romane che non rispettano, con la morte dei partiti, non rispettano le comunità locali e ci calano i candidati dall'alto. Una semplice riflessione. Nelle ultime cinque elezioni regionali e comunali i candidati sono sempre stati gli stessi. Caldoro De Luca nel 2010, Caldoro De Luca nel 2015, Caldoro De Luca nel 2020, Lettieri De Magistris nel 2011, Lettieri De Magistris nel 2016. Perché da Roma se ne fregano del territorio e si dividono uno a te, tre a me, quattro a me, senza pensare al bene dei cittadini che vanno a votare. Addirittura il PD, se non c'era il Covid, non candidava De Luca, che è stato candidato solo per l'emergenza Covid. E allora, e allora ritorniamo, ritorniamo a impossessarci dei nostri diritti. Che Napoli ritorni capitale. Buon caffè a tutti.